Io qui sono un educatore, aiuto il rettore e il vicerettore nelle attività quotidiane, mi occupo dei ragazzi nello studio, mi aiutano i compiti quotidiani specialmente i ragazzi delle medie, nelle loro difficoltà, sto vicino a loro quasi come se fossi un fratello maggiore. È un servizio molto molto bello perché ti dà davvero la possibilità di capire quanto la chiesa sia universale. Non è una cosa detta così giusto per dirla, ma è una cosa davvero molto che si sente, magari lo stesso canto in cinese, non lo so, offri la vita tua o il tuo popolo in cammino in cinese, oppure riuscire a capire a che punto della messa ci troviamo in una lingua che non è la tua, non lo so, in croato. Primo impatto uno dice no, ma non riusciresti mai a capire, invece no perché dalla lunghezza, dai movimenti si riesce a capire benissimo dove si trovano quei sacerdoti in quel momento che parte della messa, la messa si trovano e davvero ti dà l'idea di quanto la chiesa sia grande e universale, di quanto abbracci realtà diverse, di quanto ci siano sacerdoti eccezionali.